Caravaggio Caravaggio è uno dei più grandi maestri italiani e non sono italiani allora occuparsi di lui è quasi una necessità per uno storico d'arte Caravaggio è uno dei grandi di ogni tempo non si può dire altro prima di lui c'era il cosiddetto manierismo il rapporto diretto con la natura non c'era è stato rivoluzionario tutti gli artisti hanno capito che c'è un altro modo di fare dipingere dalla natura con il modello di fronte e non dipingere automaticamente come facevano i manierischi che copiavano l'uno l'altro è chiaro che ripeteva talvolta con varianti talvolta esattamente ma la gente chiedeva da lui i quadri e naturalmente lui aveva bisogno di scudi siamo tutti molto grati alle autorità che hanno messo a posto e sostenuto l'idea di queste due mostre molto importante del grandissimo artista non posso dire altro che grazie tante a tutti quanti il mondo che grazie a tutti